La Serie 6 si rinnova, la Serie 6 cresce ancora sotto gli aspetti di sportività ed eleganza. Ci troviamo in questo caso al top di gamma, quindi con vetture dove l'esclusività e il lusso la fanno un po' da padrone e questa nuova versione va proprio a incrementare questi aspetti. Lo fa toccando in questo caso poco il design esterno perché è un design che è molto riuscito, è molto apprezzato, ha vinto tant'è vero tanti premi di riconoscimento nel mondo del design e per questo motivo ha subito veramente solo delle piccole finiture e dei piccoli tocchi. All'interno invece vengono fatte delle modifiche più importanti, soprattutto anche in questo caso di sistemi e servizi a livello di sicurezza. quindi anche in questo caso dei dispositivi che aiutano il guidatore in posizione di pericolo. motori che si aggiornano diventano Euro 6 e aumentano sempre l'aspetto di prestazione ma con consumi di emissioni sempre ridotti.